Metrix è un sistema, Neo. E quel sistema è nostro nemico. Ma quando ci sei dentro, ti guardi intorno e cosa vedi? Uomini d'affari, insegnanti, avvocati, falegnami. Le proiezioni mentali della gente che vogliamo salvare. Ma finché non le avremo salvate, queste persone faranno parte di quel sistema e questo le rende nostre nemiche. Devi capire che la maggior parte di loro non è pronta per essere scollegata. Tanti di loro sono così a sue fatti, così disperatamente dipendenti dal sistema che combatterebbero per difenderlo. Mi stai ascoltando, Neo? O guardi la ragazza col vestito rosso? Ma no, stavo... Girati. Blocca. Questa... Questa non è Metrix. No. È un altro programma di tirocini ho studiato per insegnarti una cosa. Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Chi sono loro? Programmi senzienti. Si muovono, entrano ed escono da qualunque software, rimanendo integrati nel sistema. Il che significa che chiunque non sia stato liberato da noi è potenzialmente un agente. All'interno di Metrix lo sono tutti. E non lo è nessuno. Siamo sempre sopravvissuti nascondendoci e fuggendo da loro. Sono i guardiani. I custodi di ogni accesso ne hanno tutte le chiavi. Per questo aspetta a qualcun altro. A qualcun altro affrontarli. Qualcun altro? Non ti mentirò, Neo. Ogni uomo o donna che se li ha trovati davanti, chiunque abbia affrontato un agente è morto. Ma dove loro hanno fallito, tu avrai successo. Perché? Ho visto agenti dare pugni attraverso muri di cemento, uomini svuotargli i caricatori addosso colpendo solo l'aria. La loro velocità e forza però sono e restano frutto di un mondo che osserva delle regole e per questa ragione loro non saranno mai per fortuna forti e veloci come te. Cosa cerchi di dirmi? Che posso schivare le pallottole? No, Neo. Cerco solo di dirti che quando sarai pronto non ne avrai bisogno.